Ciao a tutti, io sono Filippo. Io sono Samuele. Siamo due membri del direttivo di ELSA Padova. ELSA è un'associazione di studenti di giurisprudenza che organizza attività e organizza eventi per studenti dagli studenti. Ascoltate questo episodio special di Lowcast per scoprire le differenze tra la sede di Padova e la sede di Treviso. Ma soprattutto per scoprire perché Padova è meglio di Treviso. Davvero? Tagliamola dai!